Wewe ragazzi e bentornati! Oggi vedremo il fucile electroshock. Fucile d'assalto. Spara colpi energetici molto precisi a cadenza moderata con elevati danni prolungati, infligge danni energetici e risulta mediamente efficace contro tutti i nemici elementali. Questo pacchetto è disponibile semplicemente nel negozio tra le offerte a tempo al costo di 16 euro e se non avete ancora salva al mondo comprenderà anche questa modalità. Quindi che stai aspettando? E mi raccomando se deciderai di comprarlo prova a pensare al fatto di utilizzare il codice KinoTV nell'item shop di Fortnite. Mi raccomando è gratuito! Il pacchetto comprende anche l'eroe potenza che come vantaggio comandante incrementa il raggio di onda d'urto del 112% e del 37% come bonus standard. Però in questo video vado semplicemente a sostituire la skin di Mazza con quella dell'eroe nuovo così abbiamo modo sì di vedere la skin ma comunque di vedere anche l'arma per quello che è veramente. La prima cosa che voglio farvi notare quindi per non obbligarvi all'acquisto state tranquilli sono entrambi delle reskin. Ciò cosa significa? Significa che sono semplicemente delle armi o degli eroi identici ad altre armi o appunto eroi già presenti nel gioco. In questo caso l'eroe è la reskin di Jonesy Ranger dell'amore mentre l'arma a differenza di quanto vi dissi in un rapporto di tanto tempo fa quando appunto ci trapelarono dei leaks. Ecco nel video dissi che era uguale al gammatron 9000. Non è così ragazzi. Quest'arma è la reskin del fucile d'assalto all'Argon. Quindi detto questo vi consiglio l'acquisto? Assolutamente no. Dovete acquistarlo solamente se siete diciamo appassionati di collezioni di skin. Se volete collezionare il piccone, lo zaino, avere anche l'accesso a salva al mondo magari in quel caso ha anche molto più senso. Perché nel caso del nostro caro e vecchio salva al mondo beh sono eroi e armi che appunto già avevamo. Il fucile electroshock comunque come il fucile d'assalto all'Argon è ancora un'arma che diciamo è molto utilizzabile. Pecca un po' per la sua cadenza di tiro. Infatti se potete scegliere un percaggio differente magari scegliere sul fucile d'assalto all'Argon una build in danni con tanta cadenza di tiro e magari lasciare una di queste due in critico avrebbe anche senso far così. Perché c'è anche da considerare il fatto che purtroppo su quest'arma non è possibile fare un percaggio con un doppio danno critico. Ce ne dovremmo far bastare soltanto uno e una perk di livello. In sé purtroppo è un'arma veramente molto molto semplice e diciamo anche limitata in certi aspetti perché appunto avendo una cadenza di tiro così lenta, solo 30 colpi, un danno che sì non è il massimo, non è neanche troppo malvagio, diciamo che è nella media, è un'arma che diciamo è abbastanza versatile in più contesti. Possiamo utilizzarla contro uno smasher, comunque non sarà al top come molte altre armi. Possiamo utilizzarla con tanti abietti di gruppo, beh oddio anche lì siamo molto molto limitati, vedrete bene dalla clip della storm chest. E siamo anche obbligati a tenerla come il fucile d'assalto all'Argon purtroppo solamente ad energia. È una reskin e quindi ha le stesse statistiche. Entrambe possono essere percate soltanto ad energia, l'unica differenza è appunto l'ultima perk. In questo caso il fucile electroshock si presenta con una perk di tormento, quindi possiamo dire che è un altro motivo per evitare l'acquisto, no? Mi conto se avesse una sesta perk speciale rispetto a tutte le altre armi, ma sappiamo che non è così, quindi state tranquilli. Per quanto riguarda l'eroe invece ragazzi non c'è molto da dire, lo abbiamo già visto in passato tantissime volte, anche quando reworkarono gli eroi per esempio, e anche Jonesy Ranger dell'amore diciamo che non è una build che mi piace particolarmente. Se andiamo a sviluppare una build appunto incentrata su quest'ultima abilità, beh nella build lo andiamo a mettere quasi sicuramente, ma già è difficile che comunque scendo in campo con una build incentrata sull'onda d'urto. Se proprio lo faccio andrei a mettere comunque come primario quello che diminuisce la cooldown e a mettere appunto queste perk qua nelle build. Quindi è trascurabile, sì, a meno che non vogliamo appunto fare una build sull'onda d'urto. Quindi nel complesso posso dirvi che è un pacchetto che potete benissimo saltare. Allora ragazzi per il video di oggi è tutto, ricordatevi che le novità saranno veramente tantissime. A partire da Frost Night, le nuove venture, insomma ci aspetta un lungo lungo periodo di gaming. Io vi ricordo ragazzi di attivare la campanella dell'iscrizione su questo canale per non perdervi nessuna novità. Fatemi sapere cosa ne pensate a riguardo del video, se vi è piaciuto, se non vi è piaciuto, se vi piace l'arma, se addirittura comprerete il pack per sostituire quella che è la skin di fucile d'assalto all'argon con questa, anche se comunque il fucile d'assalto all'argon fortunatamente è bello esteticamente. Ricapitolando, vi ricordo che non c'è assolutamente bisogno di comprare questo pacchetto, a meno che voi non vogliate o gli oggetti estetici oppure l'accesso a salva al mondo con qualche arma e qualche eroe già disponibile, perché per noi vecchi giocatori di salva al mondo è roba già vista, utilizzata e anche recensita. Io ragazzi vi ringrazio della visione, noi ci vediamo con il prossimo episodio. Bella bella! Ciao! 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 Grazie a tutti